Sono convinto che come ogni anno di riuscire a togliere il Cinaus e buone soddisfazioni e soprattutto io lo chiamo il campionato della stella questo, sono orgoglioso. La condivisione di questo progetto con tanti amici, con gli amici di sempre, credo che sia una cosa più bella, dal rapporto di un societario che è anche instaurato tra di noi rapporti di amicizia. Sentire la città, i tifosi che in tutti questi mesi, dove sono stati, si sono fatti sentire con tutti noi, però sicuramente adesso stiamo andando alla grande e penso che domenica decidiamo a fare una buona partita, siamo tutti molto carichi e pronti e non vediamo l'ora di scendere il campo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!